Una ricchezza, certo è facile, stare da un'altra parte di là, a uno che andate fatigli, andate un'altra parte fatica, quindi devo avere una ricchezza. Però quando vi farete più grandi, le posce più belle saranno quella di avere dei valori, credere di qualche cosa. Voi siete il pensiero più giusto di questa città, dàvole a osso, ne abbiamo fatto l'osso, è la famiglia, è l'unico, la papàfà. Grazie.